La prima apparizione di Stefano De Martino alla guida di Affari Tue ha suscitato pareri contrastanti, da un lato, Cacchi rimpiange Amadeus, mentre dall'altro, molti spettatori si sono detti entusiasti della nuova conduzione. Stefano, determinato a fare del suo meglio, ha affrontato il debutto con grande impegno. In un'intervista al TG1, aveva dichiarato, mi sono allenato tutta l'estate. Anzi, non vedo l'ora di debuttare perché è stata un'estate lunghissima dell'attesa snervante. Sono molto entusiasta, non vedo l'ora di cominciare e di fare compagnia ai nostri telespettatori tutte le sere. Il rapporto con Amadeus sembra essere cordiale. De Martino ha raccontato, ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c'è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto, vedrai che ti divertirai. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Stefano ha subito ricevuto la sua prima grande soddisfazione. Con un sorriso, può dire ai suoi fan, avete visto? Stefano era la scelta più giusta. I numeri della prima puntata, infatti, parlano chiaro. Affari 2 Surrain ha ottenuto 4.407.000 spettatori, con uno share del 24,85%, un risultato sorprendente rispetto alla puntata d'esordio dell'anno scorso. I dati di ascolto della serata evidenziano il successo di Affari 2 Surrain 1, che ha registrato 4.407.000 telespettatori con uno share del 24,85%, superando i risultati della puntata d'esordio dello scorso anno, che aveva raccolto 3.387.000 spettatori e il 20,6% di share. Su Canale 5, Paperissima Sprint ha ottenuto 2.285.000 telespettatori con il 12,85% di share, in leggero calo rispetto ai 2.341.000 spettatori e il 14,3% dell'anno precedente. Surrain 3, Blob ha raccolto 674.000 spettatori, 4,15%, seguito da Caro Marziano con 804.000, 4,68%, e un Postol Sole con 1.180.000 spettatori, 6,54%. Su Italia 1, NCIS ha ottenuto 1.284.000 telespettatori con uno share del 7,21%, in crescita rispetto agli 1.148.000 spettatori e il 7,1% dell'anno precedente. Sulla 7, in onda ha ottenuto 1.232.000 spettatori, 6,82%, mentre su TV 8, Alessandro Borghese, 4 ristoranti ha raccolto 454.000 telespettatori, 2,58%, infine, su 9, Cash or Trash, ha registrato 653.000 spettatori con uno share del 3,67%, il notevole aumento di share, 8%, e di telespettatori, 1,3 milioni, per Affari Tuoi è sicuramente un buon segnale per Stefano De Martino, ma è ancora presto per fare bilanci definitivi. Solo dopo il primo mese si potrà valutare meglio il successo della nuova conduzione.